buona visione come state sto bene e tu ti stai riprendendo dalla notte scorsa non so davvero a cosa vi riferiate certo che no comunque ho una commissione da fare vorrei che mi accompagnassi con piacere vieni non dista molto da qui so tutto della tua zuffa con piedi quale zuffa ti prego smettiamola con i giochini ci ha insultato non potevo permettergli di continuare sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre francesco dei pazzi è un essere spreggevole ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio che cosa gli accadrà immagino che ci sarà un processo mio padre testimonierà per forza è lui che ha in mano le prove vorrei che ci fosse un altro modo però non c'è nulla da tenere tutti vogliono che sia fatta giustizia è una circostanza incresciosa ma passerà eccoci qua eccoci qua eccoci qua salute leonardo madonna maria questo è mio figlio etio molto onorato l'onore è mio vado a prendere i dipinti torno subito ha un grande talento immagino esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita dovresti trovarti qualche sfogo sono pieno di sfoghi oltre alla topa intendo madre torniamo a casa vostra sì sì etio ti spiace aiutare leonardo allora etio di che ti occupi sta lavorando per suo padre diventerai un banchiere per ora e tu pittura vero a dire la verità è un po' difficile collocarmi la pittura mi piace ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi non so uno scopo capisci cosa intendo? vorrei occuparmi di cose più concrete più reali come l'architettura magari o l'anatomia non mi è contento di riprodurre il mondo voglio cambiarlo oh leonardo grazie dell'aiuto figliuolo non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri è stato un piacere conoscerti etio spero di rivederti presto anch'io grazie a tutti